Crescono tensione ed entusiasmo in vista della partita decisiva di domenica a Verona. Nella giornata di ieri, solita dura doppia seduta al poggio degli Olivi per la truppa biancazzurra. Ancora a parte, ha lavorato Samuele Olivi, che si è sottoposto ad un'eocografia e non è detto che al Bentegodi il capitano sia schierato nell'undici titolare. La decisione definitiva, il tecnico Eusebio Di Francesco, la prenderà solo nell'immediato pregara. E' comunque pronto Sembroni, autore di un'ottima prestazione con il Cosenza. Chi non ci sarà di sicuro è Tognozzi, squalificato. Al suo posto sembra scontato l'impiego di Ciccio Dettori, mentre sulle fasce spazio a Bonanni e Soddimo, come già visto per buona parte della ripresa con i calabresi. Non lo so se sarà Dettori, non lo so se sarà il mister a decidere questo. Per me cambia poco, naturalmente se gioca a Dettori con me è un giocatore più di qualità, quindi dovrò cercare di dare ancora di più una mano in fase di ripiegamento, diciamo, di difesa. Ecco, dovrò dare una mano alla difesa in più. Normale se c'era Tognozzi mi aiutava molto di più proprio a stare lì davanti, però non è un problema. Acquisteremo ancora di più in qualità. Oggi pomeriggio il Pescara ha sostenuto un amichevole in famiglia sull'erba di città Sant'Angelo. Prosegue a ritmi sostenuti la preventita dei biglietti del settore ospiti dello stadio veronese. Alla serata di ieri i tagliandi già ventuti erano 600, diventati poco meno di 1000 nella mattinata di oggi. Alla fine i supporters biancazzurri al seguito dovrebbero essere almeno 2000.